Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato da Marsiglio dal titolo Dentro ad Ilicati Petti, il volto femminile del Decameron di Giulia Tellini che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite perché ci parli di questo interessante volume appena pubblicato, quindi io come mia abitudine lascio subito la parola all'autrice così ci può raccontare. Prego, a lei. Allora io prima di tutto ringrazio per l'invito e poi ecco sì sono molto contenta di parlare di questo libro che appunto è appena uscito e a me interessava parlare delle figure femminili nel Decameron e parlare anche dell'attualità, dell'attualità di Boccaccio e dell'attualità del Decameron. Oggi c'è un pregiudizio accademico, lo sappiamo un po' tutti, che rifiuta la lettura attualizzante dei classici ma ovviamente secondo me sono doverosi il rispetto filologico ovviamente lo scrupolo nell'accertamento dei dati biografici ma bisogna anche convenire che comunque il testo dei classici va oltre e parla agli esseri umani di tutte le epoche, di tutte le epoche storiche e quindi anche a noi. Ecco il libro in particolare dopo un primo capitolo nel quale si analizza il proemio, il proemio famoso dedicato alle donne, si sofferma su alcune protagoniste, su alcune protagoniste di alcune novelle del Decameron. La prima è Bartolomeo Gualandi, seconda giornata decima novella, poi Giletta di Nerbona, terza giornata nona novella, Gismonda, quindi quarta giornata degli amori infelici, prima novella, poi Filippa, sesta giornata dei motti, settima novella e infine l'ultima novella del Decameron che è quella famosa su Griselda, quindi decima giornata, decima novella. E appunto io volevo parlare proprio delle, come c'è scritto nella quarta di copertina, mi interessava parlare proprio delle figure femminili. Adesso ci sono tantissime, tantissime tipologie di figure femminili, come infatti si legge nella quarta, savie, coraggiose, determinate, volitive, indipendenti, intraprendenti, forti, ribelli, però anche avide vanitose, misogene e sottomesse. Quindi Boccaccio apre il sipario su una multiforme tipologia di carattere e di comportamenti femminili e mostra alle donne, ossia alle proprie lettrici, perché le lettrici dell'azione di Boccaccio del Decameron sono proprio le donne, come sono, come possono essere, come potrebbero essere se godessero di più libertà e di più potere e come anche devono non essere. E questo è interessante perché, come appunto nel libro, Tura del Decameron non è, come è stato detto finora, una struttura come quella della Divina Commedia ascensionale, per cui si va da Sercia Pelletto, modello negativo, a Griselda, esemplare femminile di virtù. Ma secondo me il modello del Decameron non è assolutamente ascensionale, ma è un modello a baricentro, quindi circolare, dove si parte da un modello negativo come quello di Sercia Pelletto e si arriva a un altro modello negativo che è quello di Griselda. E quindi il Decameron attua proprio appunto un circolo e quindi il modello è a baricentro, per cui secondo me le novelle più importanti si trovano proprio al centro. E quindi occhio e croce nella sesta giornata. E quindi ecco quello che anche volevo dire è che una delle figure femminili secondo me più importanti del Decameron è proprio la figura di Filippa, che è la figura femminile di cui parla appunto in uno dei capitoli della sesta giornata, settima novella, e è la novella in cui proprio Filippa difende se stessa, la novella è ambientata a Prato, Filippa difende se stessa da un'accusa di adulterio, il marito l'accorta in fragrante adulterio con l'amante e all'epoca a Prato c'era uno statuto per cui le adulterie dovevano essere condannate a essere bruciate vive. E Filippa, che viene invitata da tutti gli amici e da tutti i parenti a negare tutto, invece si presenta in tribunale, dice che è vero che lei assolutamente ha tradito il marito con l'amante e non solo dice la verità e a quel punto dovrebbe essere arza viva, ma con la propria arte della parola, con la propria arte oratoria, abilità di parlare, riesce a far modificare lo statuto. Quindi sì, va bene, siamo nella giornata dei motti e quindi molto spesso le novelle di motto vengono anche considerate fino a un certo punto della prontezza di spirito, ma questa non è soltanto prontezza di spirito. Lei, grazie all'arte della parola, modifica uno statuto riguardante le donne e quindi salva la vita a se stessa, ma non solo. Cambia una legge che riguarda le donne che amano, perché lei sta parlando appunto delle donne che amano, che quindi l'adulterio deve essere distinto rispetto al meretricio contro cui Boccaccio è feroce, perché contro le donne che si concedono per soldi Boccaccio è feroce, mentre invece le adulteri, quindi le donne che si concedono per amore, ecco vengono assolte, non solo assolte, ma c'è la famosa introduzione di Fiammetta alla sua novella della settima giornata, Fiammetta che è una delle ragazze della brigata, una delle ragazze più importanti della brigata, la fidanzata di Dioneo, ecco Fiammetta fa una famosa salacissima tirata contro i mariti gelosi e dice che tutto ciò che le donne fanno contro i mariti gelosi è da ritenere giusto, perché proprio contro questi mariti che tengono le donne chiuse a chiave nelle loro case e le costringono a non uscire mai. Anzi io dovrei avere, se posso condividere un attimo il mio schermo, ecco c'è la, ma un po' rapida, ecco questa c'è la tirata di Fiammetta contro i mariti gelosi settima giornata, quinta introduzione alla quinta novella, nobilissime donne, la precedente novella che è appunto la quarta della settima giornata mi tira a ragionare di un geloso, estimando che ciò che si fa loro dalla loro donna è massimamente quando senza cagione ingelosiscono essere ben fatto. E poi va avanti Fiammetta dicendo, se ogni cosa avessero i componitori della legge guardata giudico che in questo essi dovessero alle donne non altra pena aver costituita che essi costituirono a colui che alcuno offende se difendendo, cioè legittima difesa, perché i gelosi sono insidiatori della vita delle giovani donne e diligentissimi cercatori della loro morte. Esse stanno tutta la settimana rinchiuse e attendono alle bisogni familiari e domestiche, desiderando, come ciascuno fa, di aver poi il dir delle feste, alcuna consolazione, quiete, riposo, di potersi divertire. Come fanno gli agricoltori, gli artefici delle città, i reggitori delle corti e come ha fatto addirittura Dio il settimo giorno che si è riposato. Che è divertente guardare tutte le volte che Boccaccio parla di Dio nel Decameron, che si vede proprio da questo che il Decameron è l'opera della laicizzazione della vita, perché anche nel Proemio e in tanti altri punti, ecco, Dio viene chiamato in causa e viene chiamato in causa in frasi dove è evidente che ciò che conta per Boccaccio è quello che avviene su questa terra, il riscatto della vita su questa terra dopo un periodo nel quale invece importava la vita ultraterrena, quindi ecco come nella Divina Commedia, per esempio, invece ecco qui, e come vogliono le leggi sante civili, le quali all'onor di Dio e al bene comune di ciascuno riguardando hanno i dì delle fatiche distinti da quelli del riposo. E poi, appunto, alla qualcosa i gelosi niente consentono, anzi, i giorni di festa le chiudono le loro mogli ancora di più. E il che, quanto e qual consumamento sia delle cattivelle, quelle sore lo sanno che l'hanno provato, perché, conchiudendo, ciò che una donna fa a un marito geloso a torto, per certo non condannare ma commendare si dovrebbe, insomma. Non è interessante questo. E poi, appunto, un'altra cosa che volevo dire, e qui cito Calvino, Calvino ha detto, e questa è proprio l'introduzione alla premessa del mio, in esergo alla premessa del mio libro, come dice Calvino, la straordinaria novità del Boccaccio è resa possibile dall'immagine di una società ideale che fa da cornice alle novelle. È una società di donne, secondo una nuova immagine della donna che prende forma nella civiltà cittadina. Boccaccio si rivolge alle donne, racconta storie in cui le donne hanno un ruolo attivo e rappresenta un mondo governato dalla legge amorosa. Ecco, quindi, la rivoluzione che si deve al Decameron consiste proprio in questa laicizzazione della vita e del legittimo riscatto della vita, quindi su questa terra e con le forze umane. Forse interrompo la condivisione. Continuo. No, sto dicendo quello che comunque ho scritto nella, questo è il libro, sto dicendo quello che ho scritto nella premessa e quello che dico nella premessa è che le posizioni che Boccaccio assume nei confronti delle donne sono straordinariamente attuali, ma soprattutto in merito alle donne alle quali Boccaccio si rivolge, che sono le donne che amano, ma le donne che amano non sono le donne, non sono soltanto le donne che amano il proprio fidanzato, il proprio amante, ma sono le donne che amano prima di tutto se stesse, quindi le donne che non si accontentano di esistere, ma che pretendono di vivere, di autodeterminarsi e di essere felici. E quindi l'opera è dedicata proprio alla forza, al coraggio, alla capacità di provare e di dimostrare amore di queste donne, alla prontezza di spirito e di parola di queste donne e alla mancanza di paura di queste figure. E poi un'altra cosa che dico nel primo capitolo, che è il capitolo appunto sulla intitolazione, si sa che nell'intitolazione, cioè nel titolo Boccaccio, anzi forse condivido di nuovo se è possibile. Posso condividere di nuovo lo schermo? Così faccio vedere l'intitolazione. L'intitolazione è questa. Ecco, questo è il proemio e l'intitolazione, questo è il corso che io ho fatto quest'anno alle mie studentesse di scienza della formazione sul Decameron. Ecco, questa è l'intitolazione. Il nome è la carta di identità del libro, il nome Decameron e il cognome Principe Galeotto, nel quale si contengono cento novelle in dieci di dette da sette donne e da tre giovani uomini. Quindi abbiamo il nome, va bene, che indica dieci giorni. E poi il cognome che è Principe Galeotto. Principe Galeotto, ecco, secondo anche il ciclo arturiano del Lancillotto in prosa. Il Principe Galeotto era questo personaggio che, secondo la leggenda arturiana, era il miglior amico della regina Ginevra, che era anche il miglior amico di Lancillotto. Ora, secondo la leggenda del ciclo arturiano, Ginevra fu ripudiata da re Artù, la regina Ginevra, che era la moglie di re Artù, fu ripudiata da re Artù, perché ingiustamente accusata di aver usurpato il trono di una vera regina, ma era tutto falso, lei era la vera regina, ma comunque re Artù l'accusò ingiustamente di aver usurpato il trono della vera regina, e lei per un anno e mezzo andò a vivere nel regno di questo Principe Galeotto, che era il suo miglior amico e per un anno e mezzo ci fu questa convivenza di questi tre migliori amici, che erano Lancillotto, Galeotto e Ginevra. Quindi Lancillotto era l'amante di Ginevra e Galeotto era migliore amico sia di Lancillotto che di Ginevra, e quindi ci fu questa avventurosa convivenza a tre fino a quando re Artù non richiamò Ginevra a corte, a palazzo, e capì di averla ingiustamente accusata. E qui, sul consiglio di Lancillotto e di Galeotto, Ginevra accettò di ritornare dal re. Quindi è interessante questo sottotitolo di Principe Galeotto, perché il Principe Galeotto è il migliore amico della regina che le consiglia cosa fare, le consiglia di tornare dal re, la ascolta e le dà dei buoni consigli. Anche come si dice nel premio del Decameron, il miglior amico delle donne dà divertimento alle donne e anche utile consiglio, perché infatti come ovviamente c'è anche riferimento, c'è anche riferimento ovviamente a Galeotto fu il libro chi lo scrisse, ovvio, però ecco bisogna anche andare a vedere chi è questo Principe Galeotto. Il Principe Galeotto è il miglior amico della regina Ginevra, che le dà, che la fa divertire, che la ospita, che le dà buoni consigli. E buoni consigli significa cosa fare, come comportarci, quali consigli dare. E appunto, ecco, è interessante poi ovviamente analizzare per bene il proemio e la terza parte dentro a Delicati Petti. e è interessante appunto il fatto che, come è scritto in questa quarta e ultima parte, che nel secondo paragrafo il Decameron vuole dare diletto dalle solacevoli cose e anche utile consiglio. Quindi un migliore amico fa divertire, fa ridere, ma sa anche dare utili consigli e quello che il Decameron vuole fare è aiutare le donne, che sono quelle che insomma vivono chiuse in casa, spesso chiuse dai mariti o dai padri o dai fratelli, e aiutarle a venire in soccorso e in rifugio di quelle che amano. Quindi il Decameron si propone come migliore amico delle donne, mentre invece i maschi possono andare in giro, udire e vedere molte cose, andare a caccia, andare a pesca, a cavallo, mentre invece le donne sono chiuse in casa. Sono chiuse in casa e quindi sono quelle che hanno più bisogno di essere aiutate e perciò il Decameron vuole capire cosa c'è dentro a questi delicati petti, apparentemente delicati petti, ma in realtà non si sa le battaglie che si combattono dentro a questi delicati petti. Quello che volevo dire è che dal proemio è evidente che il Decameron si propone alle donne come uno strumento politico, cioè di guida pratica per reagire contro le ingiustizie e le violenze di genere, per esortare le donne a conquistarsi un'autonomia di scelta e di azione, ad appropriarsi anche della dignità di decidere liberamente a proposito della propria vita e di se stesse e a indurre anche una presa di coscienza e a un riscatto di se stesse. E quindi Boccaccio si incarica di raccontarci che cosa avviene dentro questi delicati petti, anche perché dopo la decima novella della decima giornata, quindi la novella di Griselda, la brigata, l'onesta brigata del Decameron tornerà in città a peste non ancora conclusa e quindi questa selezionata, questa elite di giovani si incarica di tornare appunto in una città dove c'è ancora il caos, un caos da tutti i punti di vista, sanitario ma anche morale, ma anche sociale, ma anche politico e questa elite di giovani che si è presa queste due settimane per rimettere in ordine dentro se stessi, quindi creando questo ambiente onesto, ordinato e questa questo clima di ordine mentale, questa elite di giovani dico torna in città e queste sette donne quindi più sagge e più mature si incaricano di rimettere in ordine la società da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista civile, sociale, politico, quindi la città non ancora risanata, quindi non sono scappati dalla peste perché loro sono andati via per poi ritornare, quindi loro tornano in città per rimettere in ordine le cose, infatti il concetto di mettere in ordine è fondamentale nel Decameron. E poi è ancora più importante la lezione del Decameron, etica, civile e politica, se si pensa all'attualità di oggi dove ci sono ancora dei paesi nei quali i diritti delle donne ancora non esistono e tutte le rivendicazioni delle donne vengono stroncate nella violenza e questo non possiamo perciò additare come caposaldo di civiltà un libro come il Decameron che si basa proprio sulla laicità e sulla laicizzazione dell'esistenza e anche sul principio dell'uguaglianza e della dignità umane. E a proposito di umane ovviamente bisogna ricordare che la prima frase del proemio è proprio umana cosa, ora è andata via la condivisione, ma la prima frase famosa del Decameron è umana cosa, è avere compassione degli afflitti e quindi la prima parola del Decameron è la parola umana e l'ultima parola del Decameron, se si va a vedere l'ultima parola del Decameron è la parola piaceri, quindi il Decameron inizia con la parola umana e finisce con la parola piaceri e quindi è proprio l'opera della laicità e dell'esistenza e umana cosa è avere compassione degli afflitti è proprio una frase che quindi vuole mirare a rivolgersi a un pubblico che sia il più vasto possibile perché si rivolge a tutti gli esseri umani e avere compassione, avere compassione viene indicata come una cosa fondamentale dell'essere umano e avere compassione degli afflitti e gli esseri umani più afflitti sono proprio le donne che soffrono per amore e quindi poi ecco tutto il resto del libro poi prende in esame casi specifici di figure femminili, quelle che ho detto prima, però poi le mette in connessione con altre figure femminili di modo che non sono soltanto queste cinque figure femminili ma più o meno vengono prese in esame tutte le figure femminili del libro perché alla fine di ogni figura femminile è messa in connessione con altre figure femminili di modo che si ricompongono i svariati tasselli di un gigantesco puzzle che forma questo cangiante universo al femminile e molte di queste figure femminili vengono proprio rilette, interpretate in un modo davvero molto diverso da come sono state finora interpretate perché finora del Decameron sono state date delle letture che secondo me non tengono conto della straordinaria attualità di Boccaccio per quanto riguarda la sua concezione della figura femminile per cui non si può secondo me vedere Griselda come un esemplare di virtù secondo me per Boccaccio Griselda non è un esemplare di virtù tanto più che la novella di Griselda l'ultima del Decameron è narrata da Dioneo che è il novellatore più provocatorio che vuole provocare di più quindi la figura di Griselda che sopporta ogni tipo di violenza psicologica dal marito per tutta la vita per 14 anni senza fare nulla, senza dire nulla perché Griselda non dice niente, sopporta e basta non può essere addicato come un esempio massimo di virtù o addirittura paragonata a una figura mariana perché tutte le donne che finora Boccaccio ha esaltato nel Decameron sono esattamente l'opposto, sono figure di cui viene esaltato il movimento, l'attivismo, la forza di reagire, il coraggio e anche l'arte della parola, l'arte diplomatica e quindi secondo me va rivisto questo libro interessante proprio per questa lettura un po' inedita e poi mi sono divertita molto perché quest'anno ho tenuto un corso su questo libro che non era ancora uscito quindi mi basavo un po' comunque su quello che avevo già fatto e le ragazze di scienza della formazione insomma si sono scatenati dei dibattiti su ognuna di queste figure femminili anche sull'ultima figura femminile, quella di Griselda appunto e anche agli esami quindi è insomma interessante sentire i pareri di ognuna di loro su un capolavoro che loro avevano visto però abbastanza lontano da loro perché il Decameron si fa a scuola ma si fa in un determinato modo e invece in questo modo lo vedono molto attuale, molto vicino anche perché ognuno, ogni capitolo, sì ora scrivo la parola anche perché nel corso ma anche nel libro, nel libro ogni capitolo è introdotto da due esergi e questi esergi sono delle canzoni e quindi sono canzoni molto famose che io ho inserito proprio perché così chi lo legge, io voglio che il libro sia letto dalle mie studentesse da chi vuole leggerlo per il piacere di leggere non soltanto da professori e quindi ho inserito queste canzoni e da questi esergi che sono queste canzoni famose ecco sì, il lettore che può essere la studentessa secondo me entra subito nell'argomento, in ciò di cui si sta parlando per esempio la canzone che ho inserito in esergo del proemio è la sigla di Friends I'll be there for you, di Rembrandt per far capire che il proemio parla di amicizia degli amici che quando abbiamo bisogno degli amici vengono e ti aiutano e sono lì per te e quindi da questo e poi sempre come esergo del proemio ho messo l'astrofa, il ritornello di quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia e Enrico Ruggeri per far capire che nel proemio si parla delle donne e di quello che le donne non dicono e ognuno dei capitoli è introdotto appunto da queste canzoni e questo alle ragazze è anche piaciuto e niente, ho parlato però no, è che adesso bisogna che vadano in libreria a comprarlo per cui la cosa importante da fare è ricordare il titolo sì, certo il libro si intitola Dentro a Delicati Petti che è una frase del proemio del Decameron il sottotitolo è Il volto femminile del Decameron Marsilio Saggi Marsilio Collana Saggi è uscito adesso 24, 2024 ovviamente di Giulia Tellini che noi ringraziamo di Giulia Tellini sì grazie a voi invece a voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove oltre a questa trovate tutte le videopresentazioni realizzate fino ad ora grazie ancora io la ringrazio moltissimo per l'invito e allora a presto, buona lettura grazie mille, arrivederci, grazie grazie a tutti